Il dato preponderante che emerge è quella di una capacità di tenuta del tessuto economico e sociale della nostra regione, nonostante gli eventi avversi che sono molti e che comunque hanno effettivamente aumentato un grado di vulnerabilità e di insicurezza economica dentro il sistema regionale, nelle famiglie, nelle imprese. Nel 2022 sulla scia del rallentamento dell'economia internazionale anche quella toscana ha frenato, soprattutto dopo l'estate. Sono i dati che emergono dal rapporto IRPET dalla tenuta della Toscana alle opportunità da accogliere con il PNRR. C'è un andamento positivo che riguarda la produzione industriale, le esportazioni e il mercato del lavoro. La prima ha segnato un più 3,4% nei primi nove mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso periodo le esportazioni sono andate a un più 7,3% con un'ulteriore accelerazione nel terzo settore. I livelli occupazionali hanno superato non solo quelli dell'anno prima ma anche quelli pre-pandemia con un più 4,6%. La manifattura ha ancora un grandissimo carattere. Chiaramente l'industria del turismo ha mostrato difficoltà ma anche una reattività straordinaria nel 2022 che costituisce uno degli aspetti più forti della nostra economia, soprattutto a riferimento a quanto vale l'economia turistica per il resto del nostro paese. E quindi su questi due settori più rilevanti del nostro sistema produttivo noi dobbiamo fondare un po' di riflessione perché sono anche i settori che internazionalizzano la Toscana.